Questo edificio storico in via Besso 42 a Lugano ospita la nuova casa del design. Vieni con me, ti accompagno. Siamo a due passi dalla stazione, proprio di fronte alla chiesa di San Nicolao e a pochi minuti dallo svincolo autostradale Lugano Nord. Si tratta dello storico palazzo Artigrafiche Veladini del primo 800 che ha lasciato Lugano un'importante eredità manifatturiera. Recentemente è stato completamente ristrutturato ed ospita numerosi laboratori d'arte, atelier e studi d'architettura. Il parcheggio è molto semplice. Abbiamo proprio due posti all'ingresso, ma a pochi passi ci sono parcheggi pubblici molto ampi. Ma se proprio non riesci a spostarti, chiamaci pure e ti veremo a prendere con il nostro servizio di taxi privato. Questo è l'ingresso dove ancora puoi respirare lo spirito storico di questo edificio e puoi salire al primo piano con l'ascensore oppure con queste bellissime scale in granito. Abbiamo deciso di realizzare lo showroomberto di Lugano all'interno di questo loft e non nel classico negozio con le vetrine in strada, proprio perché volevamo offrirti uno spazio dove farti sentire a tuo agio, come se fossi a casa. E appena entrati in questo ambiente potrai avere già un colpo d'occhio sullo stile del mondoberto. Con il divano in pelle Didi e le poltrone Kim e Anna, con il tavolo Steve e le sedie Joan e Cherie, il letto Bowery e la libreria Ian. Da questa porta si accede ai 500 metri del nostro showroom, uno dei monomarca dedicati al mondo del salotto, più grandi di tutto il Ticino e della Svizzera. Appena entrato trovi questa galleria di esperienza, dove farai un tuffo nel passato e nel futuro della Berto. Nello showroom sono presenti numerose aree arredate con le principali collezioni Berto, tra cui il nuovissimo divano modulare Iggy, la collezione outdoor, divani letto, tavoli, sedie e tutti i complementi. E su questo tavolo, insieme ai nostri consulenti d'arredo Marion e Michele, potrai personalizzare ogni dettaglio del tuo progetto. Berto ha voluto creare solo showroom a gestione diretta, per poterti offrire tutti i servizi più efficacemente. Dalla produzione realizzata nel nostro laboratorio di Meda, fino alla progettazione e alla vendita, o alla logistica fino al servizio clienti, Berto è al tuo fianco, al 100% e senza intermediari. Il progetto è firmato dai designer Castello Lagravinese Studio, e presenta le classiche colonne inghiesa tipiche degli edifici industriali di primo ottocento. Mentre i lavori di ristrutturazione e il piano di esecuzione è stato seguito dall'architetto Viviana Pecora. Se sei un architetto, un interior designer o un appassionato di design, o semplicemente se stai pensando di trasformare il tuo salotto, lo showroomberto a Lugano in via Besso 42 è la tua casa. E i nostri consulenti da Redo saranno al tuo fianco per aiutarti a mettere la firma originale della tua personalità nel tuo progetto. Fissa il tuo appuntamento in showroom, ti aspettiamo!